Scatta a Bassano del Grappa l'operazione di controllo delle caldaie di case e attività produttive. Gli impianti che verranno controllati dal grande fratello caldaista comunale, solo una novantina, e sono stati scelti dal catastro cittadino. Il municipio ha incaricato un ingegnere di effettuare tutte le verifiche e sono già partite le raccomandate per i cittadini e le attività interessate dal progetto. È un obbligo di legge, i comuni sopra i 3.000 abitanti hanno l'obbligo di andare a verificare il funzionamento degli impianti di riscaldamento. Non è assolutamente un sistema avversatore dei cittadini ma puro controllo. Controllo che ha una duplice valenza. Quello che concerne le emissioni nell'aria quindi che incide sulla qualità proprio dell'aria cittadina e poi ovviamente una questione di sicurezza degli impianti. Avere un impianto, una caldaia controllata vuol dire ridurre i rischi di incidenti all'interno delle famiglie. I cittadini non dovranno pagare multe in caso di regolarità e verranno semplicemente invitati a mettersi in regola e se vorranno cambiare giorno del controllo concordandone uno nuovo basterà che contattino il municipio. Il rischio che qualche truffatore approfitti di questa situazione c'è come con i tempi che corrono. Per questo motivo il comune pubblicherà le foto dell'ingegnere ispettore e lo fornirà di un badge apposito da mostrare al momento del controllo. I 100 impianti selezionati ai titolari verrà inviata in questi giorni una raccomandata con fissato giorno e ora del controllo. C'è indicato chi è il professionista incaricato, l'ingegnere Ivan Peloso che è un nostro incaricato, avrà il badge di riconoscimento e in questi giorni successivi anche nei nostri social daremo riscontro con un'immagine per far vedere chi è questo ingegnere.